e disporre i nostri cuori ad ascoltare la parola del Signore. Vangelo di Luca, il capitolo 2, leggiamo dal versetto 25 al versetto 38, anche se poi ci soffermeremo a considerare e a meditare gli ultimi versetti di questo testo. Signore, sia la lode e la gloria da ora e per sempre in eterno. A me, alleluia, gloria a Gesù. Dal versetto 25 dell'Evangelo di Luca, il capitolo 2, leggiamo Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Questo uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e con i genitori vi portarono il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge. Lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparato dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e glorie del tuo popolo di Israele. Il padre e la madre di Gesù restarono meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser Era molto avanti negli anni dopo essere vissuta con il marito sette anni dalla sua verginità era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere sobraggiunta in quella stessa ora anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme Signore ancora una volta Signore come è stato fatto anche prima di nuovo chiediamo la tua unzione e l'ispirazione da questo momento sulla mia bocca affinché possa proferire Signore parole che provengono direttamente da te grazie perché ancora tu oggi ci parlerai nel nome di Gesù Amen Alleluia vi potete accomodare Questa mattina voglio parlare di qualcosa che bene o male bene o male tutti nella vita possiamo vivere sapete a volte non so se a voi è capitato a me è capitato bello parlare di esperienza l'esperienza parla e l'esperienza insegna quindi non dobbiamo disprezzare tutto quello che noi viviamo nella nostra vita e le esperienze che noi viviamo che possono essere positive possono essere pure negative però l'esperienza insegna e quando si arriva poi ad una certa età 52 anni quest'anno possiamo parlare di esperienza vissuta non solo letta nei libri e quindi è importante sapete nella vita si fanno tante cose ci sono momenti in cui noi facciamo determinate altre cose altre non le facciamo e magari quando poi arriviamo ad un certo punto della nostra vita ci troviamo pure a fare delle considerazioni considerazioni finali il bilancio della nostra vita tiriamo le somme tiriamo i conti e a volte ci siamo resi conto e mi sono reso conto che indietro non posso tornare almeno io voi se potessimo tornare indietro quante cose non faremmo quanti errori eviteremmo e magari quante cose magari vorremmo fare e poi magari arriviamo ad un certo punto della vita che diciamo ma guarda ma perché non ho fatto determinate situazioni le avrei potute fare non le ho fatte e magari ci sono rimpianti magari ci sono un po' dei ricordi si vivono dei ricordi a volte ci sono delle cose che possiamo fare o che avremmo potuto fare e poi non le facciamo perché è troppo tardi e non possiamo tornare indietro perché oramai è troppo tardi e questa mattina voglio giusto soffermarmi a considerare insieme con voi che ed è il titolo della predicazione di questa mattina non è mai troppo tardi puntini 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 per fare che cosa e poi lo vedremo non è mai troppo tardi ero combattuto durante la settimana per il tema per il titolo però grazie a Dio poi il Signore mi ha illuminato con il non è mai troppo tardi c'è un detto popolare c'è un proverbio che dice chi ha tempo non aspetti tempo e quindi di non rimandare a domani quello che noi potremmo fare oggi la Bibbia dice oggi tutto quello che la tua mano trova da fare farlo in tutte le tue forze fallo bene e quindi noi siamo chiamati a fare le cose oggi che possiamo fare domani non potremo fare quello che facciamo oggi per tanti motivi perché non ci sono più le forze perché magari non siamo più nelle condizioni e ne potremmo fare altre ma quello che noi possiamo fare oggi per i tempi per le forze che abbiamo per le condizioni che ci sono noi siamo chiamati a farlo perché sapete oggi e poi un domani di tutto quello che io faccio parlo per me ma penso anche voi perché lì c'è la scrittura noi saremo chiamati a renderne conto ho dei talenti che cosa ne sto facendo di questi talenti un giorno se mi sono stati dati dei talenti e fratelli tutti abbiamo un talento tutti abbiamo qualcosa a me tutti abbiamo qualcosa magari tutti non potremmo fare la predicatrice o il predicatore tutti non potremmo essere qua davanti a cantare perché siamo stonati come una campana a partire da me a me mi hanno redarguito mi hanno detto quando c'è la loda non cantare perché sembra che su internet mi sento solo io ed è meglio non sentirmi per tanti motivi perché sono stonato però non tutti tutti non possiamo cantare tutti magari non è ma tutti abbiamo un talento e tutti un giorno dovremmo rendere conto di quello che noi facciamo e soprattutto del servizio che noi rivolgiamo al Signore il testo che ho letto poi mi soffermerò a considerare il secondo personaggio che troviamo in questo testo si parla parte di Gesù si parla di Simeone e poi la scrittura Luca dice c'era anche Anna e mi piace questo c'era anche Anna e mi sono domandato perché Luca mette enfasi sul fatto che oltre a Simone c'era anche Anna sembra quasi che come se dicesse oltre a Simone c'era pure una donna oltre a un uomo c'era pure una donna gloria a Dio per le sorelle oltre agli uomini ci sono pure le donne le sorelle le sorelle sono convinte i fratelli benediciamo il Signore per le sorelle benediciamo il Signore per le sorelle nelle famiglie e anche nella chiesa che si danno da fare alleluia noi benediciamo il Signore ogni marito benedice il Signore per la propria moglie ma ringraziamo il Signore anche per la chiesa oltre a Simone c'era pure anche Anna la profetessa che svolgeva un compito all'interno della chiesa e noi benediciamo il Signore per le sorelle e nella nostra chiesa c'è spazio per le donne alleluia sorelle c'è speranza c'è speranza al Calvario e non solo c'è speranza gloria a Dio io ho sposato una donna grazie a Dio e sono benedetto ma anche una frase no è meglio dirlo perché con i tempi che corrono con i tempi che corrono da quello che abbiamo ascoltato pure martedì io non ho visto Sanremo ma avrei invocato tutti i santi dopo aver sentito Sanremo da quello che ho sentito per dire perché le cose nella terra e nel mondo da male stanno andando in peggio da male in peggio unioni civili e voi vedete come ogni giorno certi principi vanno rafforzandosi al punto tale che da dopo domani quello che non era normale o anormale diventerà normale e gli anormali saremo noi probabilmente speriamo di no però noi vogliamo continuare a portare avanti quelli che sono i principi che Dio ha stabilito nella sua scrittura martedì abbiamo avuto un seminario eccellente dico la verità mi è spiaciuto un pochino per non aver avuto la massima partecipazione dalla chiesa apro una parentesi perché è stato un seminario formativo la chiesa ha bisogno di sapere noi abbiamo bisogno di conoscere di sapere perché Gesù diceva proteggili dal mondo perché loro non sono del mondo ma vivono là noi viviamo nel mondo e quindi dobbiamo informarci perché dobbiamo sapere anche come affrontare le situazioni quindi dobbiamo ascoltare i telegiornali anche se ci fanno andare di traverso se lo ascoltiamo mentre mangiamo leggere i giornali dobbiamo essere informati anche perché questo ci aiuta ad affrontare e a prendere là dove è possibile posizione davanti a determinate situazioni martedì mi è spiaciuto perché abbiamo avuto un seminario con una persona veramente di qualità e formata e molto preparata scusate più che formata preparata nel tema e nella materia io l'avevo già sentito ma ci ha veramente così illustrato chiaramente come stanno andando le cose che io personalmente non sapevo ma che si è reso necessario mi sono reso conto che è necessario che io debba conoscere e sapere fratelli quando ci sono queste informazioni e dobbiamo rispondere la chiesa noi come chiesa siamo tenuti a informare e lo vogliamo fare per equipaggiare la chiesa anche per essere pronti e preparati a quello che andiamo incontro e questo mi è spiaciuto perché insomma si fanno sforzi abbiamo invitato un professionista di alta qualità e alla fine grazie a Dio c'è stata una buona partecipazione ma non come ci aspettavamo e quindi incoraggio la chiesa ad essere attenta a queste situazioni molti fratelli nella chiesa sono venuti diverse volte a chiedermi pastore ma tu cosa ne pensi del gender abbiamo fatto il seminario e non c'erano e allora voglio dire se mi venite a chiedere cosa ne penso del gender vi dirò acquistate la cassetta voglio dire così almeno ascolterete in che modo però è importante prossimamente faremo anche a ottobre un seminario che parlerà sull'evoluzione creativismo evoluzionismo e quindi è importante anche quello serve per i nostri figli anche per restare un po' al passo con i tempi voi vedete qua che oramai siamo indietro la tecnologia i sistemi i social network il network internet non riusciamo più a stare al passo oramai ci hanno sorpassato ogni giorno c'è una novità e quindi noi dobbiamo non per adeguarci però quantomeno prepararci e sapere come facciamo le cose detto questo perché io stavo dicendo voglio parlare del secondo personaggio stavo parlando delle sorelle e volevo dire che ho sposato una moglie ma anche la frase di William Booth che il fondatore dell'esercito della salvezza quando diceva per me i migliori uomini sono le donne e c'è una men di una sorella è vero tante volte perché le donne sono il vaso più debole ma quando ci si mettono diventano il vaso d'acciaio inossidabile voglio dire no perché proprio e abbiamo bisogno e c'è bisogno nelle famiglie nella chiesa di donne veramente che si danno da fare che possono essere un esempio come l'è stato questa donna Anna ora perché ad un certo punto Luca si sofferma a considerare e si rende necessario e rende necessario il fatto di fermarsi e focalizzare la persona di Anna ora vogliamo giusto così considerare un po' per quello che possiamo capire e sapere qualcosa qualche credenziale di questa donna di chi stiamo parlando è importante sapere tante volte quando si parla di qualcuno di chi stiamo parlando di che cosa ora Luca non è che ci dice chissà quanto e di questa donna si parla qui e poi non si parla più nella scrittura però da quello che lui dice Luca descrive questa donna ci sono degli aspetti molto importanti che ci aiutano comunque a riflettere giusto qualche credenziale sulla persona di Anna per verificare a noi che cosa no ce ne può venire in tasca si può dire no nel senso che noi sappiamo che tutto quello che c'è scritto della Bibbia è perché comunque ci serve e quindi se nella scrittura troviamo qualche aspetto riguardo ad Anna sicuramente c'è qualcosa che noi dobbiamo prendere ora Anna il nome di Anna il nome Anna dal greco equivale allo stesso significato del nome in ebraico che significa grazia Anna vuol dire grazia e di solito soprattutto ai tempi quando si dava un nome il nome era comunque anche associato alla persona e alla vita anche della persona che conduceva tant'è che diverse volte quando una vita veniva trasformata il Signore poi gli cambiava nome da questo momento tu non ti chiamerai più e ti chiamerai Giacobbe non sarai più un soppiantatore Israele scusate e quindi cambiava cambiava nome quindi era associato anche alla vita che si conduceva quindi Anna indubbiamente questa donna sicuramente e in questa donna era presente che cosa? la grazia di Dio si chiamava Anna significato grazia perché in lei era presente la grazia di Dio aveva conosciuto la grazia di Dio ora voglio dire che questo messaggio è un messaggio per tutti che fa bene a tutti quanti fa bene alla chiesa e fa bene anche alle persone se c'è qualcuno in mezzo a noi per la prima volta nuovo nuova questo messaggio è anche per te e che possa il Signore farsi conoscere tu possa conoscere in questo giorno che ci stai e mi stai ascoltando la grazia di Dio che cos'è la grazia di Dio? lo sappiamo ma lo ripetiamo la grazia di Dio è un favore che noi non meritiamo favori non meritati e tutto quello che noi otteniamo e riceviamo pure la salvezza la riceviamo e la otteniamo per grazia è un favore che Dio ci ha voluto concedere ci ha voluto dare mi piace anche il significato del padre allora si parla di Anna vi era anche Anna profetessa figlia di Fanuel allora qual è il significato di Fanuel il nome del padre è una variante del nome in ebraico Penuel che significa faccia a faccia con Dio solo con questo significato potremmo fare una predicazione faccia a faccia con Dio sta a significare che Anna viveva all'interno di una famiglia dove c'era un padre il padre che viveva faccia a faccia con Dio un padre che viveva in comunione con Dio un padre in una famiglia che comunque in qualche modo viveva la sua devozione il suo rapporto con Dio un rapporto proprio devozionale faccia a faccia con Dio vuol dire che pregava e sicuramente quel padre pregava per lui e pregava pure per la figlia pregava per la famiglia impariamo a pregare per i nostri figli so che lo facciamo ma cerchiamo di alimentare ancora di più preghiamo ancora di più per le nostre famiglie per i nostri figli perché noi certe volte non possiamo fare nulla di pratico ma una cosa possiamo fare di spirituale è quello di proteggere le nostre famiglie i nostri figli con la preghiera con la preghiera noi possiamo proteggere i nostri figli e anche le nostre famiglie a volte viviamo determinate situazioni si vivono determinate situazioni all'interno della famiglia usciamo la mattina ognuno lascia la propria casa per andare a lavorare noi è buono ed è importante che quando usciamo e quando vediamo uscire i nostri figli i nostri familiari li mettiamo sotto la protezione di Dio viviamo e mettiamoci sotto la vera protezione e Dio ci protegge e quando ci protegge ci protegge perché Dio veglia di notte e di giorno sopra ognuno di noi alleluia gloria a Gesù perché sappiamo che colui che ci protegge tra l'altro dice un salmo non dorme e non sonnecchia alleluia quindi Anna leggiamo continuiamo a leggere quindi era molto avanti negli anni due punti finiamo il periodo e dice dopo essere vissuta con il marito sette anni della sua virginità era rimasta vedua e aveva raggiunto gli 84 anni Luca dice parla di questa donna e dice che era in quel periodo avanti negli anni e poi dice di lei che dopo essere vissuta col marito per sette anni altro che crisi del settimo anno del matrimonio Anna fa un'esperienza torribile rimane vedova dopo sette anni Anna aveva conosciuto in quel periodo il dolore il dolore di una vedovanza di una vedova giovane e mi sono soffermato a considerare il dolore la sofferenza tutti prima o poi conosciamo il dolore e tutti prima o poi conosceremo anche la sofferenza ma a volte la sofferenza e il dolore ci può può essere uno strumento di avvicinamento e di allontanamento soprattutto da Dio tutto avviene sulla base della consapevolezza che noi abbiamo verso Dio di come affrontiamo le situazioni quando si presenta il dolore e la sofferenza e non riusciamo tante volte a capire sempre il perché perché non c'è dovuto a volte e non riusciamo neanche a capire a comprendere il perché succedono determinate cose Anna ad un certo punto dopo sette anni poteva sicuramente ribellarsi come dopo sette anni il Signore mi ha tolto il marito e quindi lì cosa poteva scaturire la ribellione verso Dio quindi a volte il dolore e la sofferenza potrebbe far scaturire o alimentare verso Dio due attitudini una positiva e una negativa una negativa e una positiva la negativa qual è quella che a volte tu te la prendi con Dio e al punto tale che invece di avvicinarti ti allontani perché vedi Dio come un mostro un Dio che ti ha tolto qualcosa un Dio che ti ha portato del dolore e della sofferenza mentre l'attitudine positiva quella di Anna è che non si era allontanata da Dio ma la Bibbia dice che Anna era rimasta vedova aveva raggiunto gli 84 anni e non si era allontanata la sofferenza ti può avvicinare e ti può allontanare dipende da come noi affrontiamo la sofferenza e il dolore purtroppo a volte capita la sofferenza e il dolore le preoccupazioni le difficoltà della vita ti possono avvicinare o ti possono allontanare ma da chi dipende da Dio dipende da me da come affronto io il dolore e la sofferenza Anna stiamo parlando della profetessa l'ha affrontata nella maniera giusta avrebbe potuto allontanarsi rifarsi una vita avrebbe potuto risposarsi e ne aveva tutti i diritti biblicamente parlando ci si può risposare l'unica l'unica possibilità è quando si rimane vedovi come mi ricorda la sorella Maria Luisa non ci sono altri casi nella Bibbia dove si parla di rimatrimonio quindi se uno si vuole sposare che cosa deve fare? deve pregare o ammazzare il marito o la moglie non pregate non fatelo perché questa preghiera Dio non la esaudirà mai ma solo in caso di vedovanza c'è la possibilità di risposarsi non lo dico io lo dice la Bibbia poi uno se si vuole rifare una vita può fare quello che vuole per carità ma se uno dice cosa dice la Bibbia a tale proposito a questo non posso dire qualcosa di diverso siccome adesso anche i tempi si sono evoluti ci siamo evoluti anche in questo le cose stanno cambiando però non è questo il tema della predicazione e non voglio assolutamente parlare di questo ma vediamo che Anna affronta il momento della sofferenza con l'attitudine positiva quindi non si era allontanata a Dio ma anzi era molto vicina a Dio un certo Thomas Bloch vissuto negli anni dal 1608 al 1680 un predicatore teologo inglese disse i tempi di sofferenza ascoltate bene l'affermazione di questo teologo predicatore i tempi di sofferenza sono tempi di raccolta del cristiano lo ripeto i tempi di sofferenza sono tempi di raccolta del cristiano un altro teologo affermò dicendo la capacità di resistenza della nostra fede non è dimostrata né sviluppata fino a quando non è testata con la sofferenza la capacità di resistenza lo ripeto della nostra fede non è dimostrata e nemmeno sviluppata fino a quando non viene testata o si scontra con la sofferenza nella sofferenza il cristiano e per la sofferenza sono tempi di raccolta del cristiano l'anno dei tempi di raccolta gloria a Gesù se stai vivendo stiamo vivendo momenti di dolore di sofferenza prepariamoci a raccogliere prepariamoci a raccogliere quello che il Signore ha preparato per noi Dio ha preparato grandi cose per la tua vita lo vogliamo proclamare lo vogliamo pronunciare lo vogliamo pure credere che quest'anno è il tempo della raccolta a tutto tondo a 360 gradi proclamiamo tempi di raccolta per l'anno 2016 amén gloria a Gesù era molto avanti negli anni e dopo essere vissuta con il marito abbiamo letto 6 anni dalla sua verginità era rimasta vergine non aveva avuto rapporti prima del matrimonio e qui Luca ad un certo punto sottolinea il fatto ricordo che fornicazione è uno dei peccati che non ci permette di entrare e vedere la gloria di Dio fornicazione ed ulterio qual è la differenza per i nuovi tra la fornicazione e l'adulterio la fornicazione è il rapporto sessuale prima del matrimonio e non va assolutamente bene non è previsto ed è un peccato davanti agli occhi di Dio e noi da questa chiesa da questo pulpito vogliamo denunciare il peccato e chiamarlo col proprio nome perché bisogna dirle le cose l'adulterio sono quei peccati sempre sessuali all'interno del matrimonio non con la propria moglie ma con qualcuno che non è all'interno del matrimonio la Bibbia dice che il matrimonio deve essere tenuto in onore da tutti quindi vuol dire che noi dobbiamo onorare il matrimonio degli altri come gli altri devono onorare il nostro e noi in prima persona prima di tutto dobbiamo onorare il nostro matrimonio quindi era vergine ed era arrivata al matrimonio come mamma te l'aveva fatta ed è importante e c'è una grande benedizione anche per questo ora vediamo ancora qualcosa di Anna Anna non si allontanava aveva 84 anni e non si allontanava mai dal tempio e serviva a Dio soffermiamoci a considerare questa affermazione Luca dice che per tutto il tempo allora non si era risposata ma aveva preso una decisione in cuor suo quello di fare che cosa servire il Signore come lo serviva Anna lo serviva giorno e notte non si era mai allontanata perché mi sono soffermato a considerare voglio considerare con voi questa mattina Luca dice non si era allontanata dal Signore perché a volte noi affermiamo e giustifichiamo l'importante non allontanarsi dal Signore e questa è una cosa importante ci mancherebbe ma Luca non dice che non si era allontanata dal Signore perché dava scontato il fatto che Anna non si era allontanata dal Signore perché non si era allontanata da chi? da che cosa? dal tempio ecco Luca mette l'enfasi sul fatto che Anna non si era mai 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 allontanata dal tempio non si era mai allontanata dalla Chiesa e serviva giorno e notte il Signore quindi Anna che cosa faceva? era sempre in Chiesa oggi non lo potremmo dire mai a nessuno vieni sempre in Chiesa perché? perché in Chiesa uno ci viene allora un segnale uno dei segnali normali di un nato di nuovo sapete qual è? il desiderio di andare in Chiesa e se non può andare soffre siete d'accordo con questo? uno dei segnali evidenti di un nato di nuovo è quello che sente il bisogno di andare in Chiesa e se per caso per qualche motivo non ci può andare soffre giovedì dopo tanto tempo sono andato nella cellula di Gaspare non nella sua cellula ma siamo andati a casa della sorella Carmela soffriva per il fatto che per tutto il tempo che siamo stati lì ha continuato ad affermare fratello pastore non posso venire in Chiesa per lei il non poter frequentare ed essere qui come noi oggi a lodare il Signore era una sofferenza amen quindi uno dei segnali importanti evidenti per uno che è nato di nuovo è che sente il bisogno la necessità di andare in Chiesa e se non può andare soffre quindi che cosa vuol dire che se uno non viene in Chiesa e non gli manca la Chiesa e non soffre permettetemi di dire o di fare questa affermazione e c'è qualcosa che dobbiamo rivedere qua invece di fare dei passi avanti facciamo i passi indietro uno dice ma che cosa stai dicendo la verità perché qualcuno diceva che la Chiesa non salva ma se tu non vai in Chiesa non sei salvato per quale motivo perché la Chiesa ti aiuta ti alimenta e ti permette di perseverare per essere salvato perché se noi non frequentiamo la Chiesa e ogni tanto come pastore lo devo dire perché lo dice la scrittura anche non dico cose miele la Chiesa è importante fratelli la frequenza alla Chiesa è importante perché ci aiuta a crescere veniamo alimentati dalla scrittura dalla parola di Dio veniamo sostenuti possiamo essere rialzati nel caso in cui noi dovessimo cadere e se non abbiamo una Chiesa cadiamo ma chi ci rialza ma chi posso far sapere che non sto bene poter avere una Chiesa alle spalle che prega è importante perché nel momento in cui io mi trovo nella sofferenza posso dire alla Chiesa pregate per me ho bisogno di voi Anna non si era mai allontanata dalla Chiesa e serviva Dio giorno e notte come mettere un lettino qualcuno ogni tanto fa la battuta qualcuno non tutti ma che serve il Signore sempre sempre qua quasi quasi mettiamo le brandine al tempo dei Leviti questo facevano nel libro della prima cronaca capitolo 9 versetto 3 di 33 vedete un po' che cosa è scritto nella scrittura cosa dice parlando dei Leviti questi sono i cantori capi delle famiglie levitiche che abitavano nelle camere del Tempio ed erano esenti da ogni altro servizio perché il loro servizio li teneva occupati giorno e notte quindi che cosa facevano avevano istituito delle camere dormevano in chiesa vagliela a chiedere a qualcuno guarda che tu adesso devi stare sempre in chiesa uno ne abbiamo il fratello Alessandro Frittoli che quando lo chiamate a qualsiasi salario lui è qua gli altri tante volte fratelli non per tutti perché poi ci sono quelli che vanno onorati e grazie a Dio perché abbiamo nella chiesa fratelli che lavorano qualcuno manca qui stamattina ma non perché si è assentato perché è stato fino alle 5 di stamattina qua a smontare tutto quello che è stato fatto ieri sera gloria a Dio per quelli che ci sono ma gli altri fratelli a volte il cuore piange mio e posso solo immaginare il cuore di Dio come soffre nel vedere il modo in cui noi serviamo e abbiamo deciso di servire il Signore Anna aveva 84 anni e per tutti gli anni fino all'ultimo abitava in chiesa e non si era allontanata dal Signore e quindi non si era mai allontanata dal Tempio e serviva Dio giorno e notte serviva Dio giorno e notte fratelli non è mai troppo tardi servire il Signore qualcuno ad un certo punto dice è finito il tempo per me il tempo è finito fratelli non è mai troppo tardi non finisce mai il tempo di servire il Signore arriverai a un certo punto che magari ti mancheranno le forze non potrai fare delle cose pratiche ma ne potrai fare altre potrai pregare per le missioni per la Chiesa per il pastore se mai ti ricordi qualche volta per qualcuno per qualche di un altro ma noi sempre possiamo fare qualcosa noi siamo chiamati a servire il Signore fratelli come ve lo devo dire in greco vuol dire che dobbiamo servire il Signore in ebraico pure in siciliano pure dobbiamo servire il Signore Anna non si era mai allontanata dal Tempio non si era mai allontanata dalla Chiesa perché il giorno in cui noi ci allontaniamo dalla Chiesa ti allontani anche dal Signore e non mi dire non è vero perché è così ne abbiamo visti tanti ne ho visti parlo per esperienza di persone di fratelli di sorelle che si sono allontanati dice ah io ho il mio rapporto con Gesù ma perché Gesù ha costituito la Chiesa poteva evitarsela sta cosa dice Signore ma perché hai costituito la Chiesa ognuno faceva quello che voleva se la gestiva se la cantava se la suonava come voleva e non c'era bisogno di andare in Chiesa oggi oramai in Chiesa è diventata la cosa facoltativa ogni tanto io sento ricevo dei messaggi che vi credo vi volete bene non mandatemi più certi messaggi pastore oggi non vengo in Chiesa che devo preparare da mangiare perché ci ho invitati in siciliano si dice mi sarrizzano le carni veramente mi viene la pelle d'oca io non vengo in Chiesa perché devo preparare da mangiare che ho i parenti portali in Chiesa i parenti e gli fai veramente un bel pranzo una famiglia di cinque persone sta male uno tutti a casa ma me lo spiegate perché sta male uno a casa uno un componente tutti a casa non vengo in Chiesa pastore perché devo andare ma se hai un impegno con il Signore benedetto fratello e sorella ma perché non assentiamoci della Chiesa così con troppa facilità perché perché ci facciamo del male noi non al pastore io oramai mi apre il cuore la mattina quando esco per venire in Chiesa mi faccio la domanda ma chissà quanti saremo oggi e poi mi do anche la risposta quelli che siamo siamo e predico a quelli che ci sono e quelli che ci sono saremo benedetti basta io non posso vivere a costi pesi fratelli che venite non venite in Chiesa così e il pastore guarda che devi venire in Chiesa ma dove tu devi venire in Chiesa io devo venire in Chiesa perché perché dobbiamo andare in Chiesa e ci sono dei momenti che passano a tutti per la testa che magari vorresti rimanere a casa vorresti siamo andati in cellula venerdì sera dopo una settimana eravamo stanchi però mia moglie ha detto andiamo in cellula ho detto a Gaspare ma perché fate la cellula il venerdì dopo una settimana però quando siamo andati là e siamo già usciti siamo stati benedetti dallo stare insieme con i fratelli ti passano le stanchezze ti passa tutto ti passa quell'altro però sei benedetto siamo benedetti insieme da che cosa? dallo stare insieme nella presenza del Signore arrivi appesantito perché i pesi ce li abbiamo tutti le difficoltà non mancano a nessuno non mancava una danna Anna abbattuta perché aveva perso il marito avrebbe potuto non dico risposarsi ma dire basta che ci vado a fare in Chiesa ho pregato quante volte ho sentito dire prego 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 e non succede mai niente da 30 anni che prego e non succede mai niente e allora continua a pregare continua a pregare non mettere il Signore solamente o tu mi dai o contrattiamo col Signore allora se tu mi dai io ti do vengo in Chiesa ti faccio una promessa che poi tante volte facciamo anche promesse che non siamo nemmeno in grado di mantenere se il Signore mi dà quante persone ho sentito nel corso di questi anni sto parlando di esperienza che prima di sposarsi a missionari pastori presunti sorelle presunte profotesse pastore perché tutto voglio dire poi si sposano e non li vedi più pensavo in questi giorni sapete a chi? ad Aquila e Priscilla due donne cioè due donne un uomo e una donna un uomo e una donna un uomo e una donna via internet mettiamo enfasi questo fatto qua un marito e una moglie sostengono l'Apostolo Paolo e in tutte le parti dove vengono menzionati si menzionano tutte e due insieme Aquila e Priscilla mai nessuna volta si parla solo di Aquila o solo di Priscilla Aquila e Priscilla Paolo ringrazia il Signore per Aquila e Priscilla quanto è importante nelle coppie servire insieme il Signore uno dei primi obiettivi di un credente quando si fidanza e si sposa deve essere quello di dire io mi sposo con un uomo con un marito o con una moglie per servire insieme il Signore oltre a farti una famiglia si parlava prima delle donne a volte ci sono delle donne che possono bisogna pregare anche uomini che possono costruire ma possono anche distruggere tante volte ci sono tante izze belle tante volte che non sono di incoraggiamento perché la donna è forte ma nello stesso tempo a volte è debole ma nello stesso tempo è forte può allontanare una volta si parlava del ministerio pastorale e ricordo che tra gli interventi qualcuno disse quali sono i requisiti che deve avere un pastore che si deve vedere tra i requisiti sapete qual è ma questo non solo per il pastore ma per ogni cosa la moglie la moglie può aiutare a crescere come può anche soffocare perché la moglie non perché sono maschilista ma è così tante volte perché il marito l'uomo per quanto si pensa di essere forte è debole abbiamo delle debolezze e tante volte William Booth quando diceva per me i migliori uomini sono le donne lui aveva le capitane il capitano all'interno dell'esercito e quindi è quindi importante questo per dire che insieme ma anche il marito a volte si allontana è per carità e potrebbe essere anche però è importante cosa voglio dire che è importante e lì è la cosa più importante nella famiglia poter servire il Signore insieme marito e moglie insieme con i figli insieme alleluia Anna aveva un padre che pregava sicuramente era anche un esempio per lei essere un esempio per i propri figli per i propri figli anche quelli che non sono convertiti mi dovete dare una spiegazione ci ho sempre riflettuto qui coloro che hanno figli che non sono convertiti e magari non vengono in chiesa se voi non venite in chiesa ma mi spiegate perché i figli che non sono convertiti dovrebbero venire ditemi una spiegazione noi non veniamo in chiesa ma che cosa gli stiamo dicendo ai nostri figli ci andiamo quando vogliamo se possiamo invece la testimonianza deve essere quella devo andare in chiesa devo venire a Cazzatù a mangiare dopo la chiesa se vuoi questa è la condizione Emma dobbiamo essere di buona testimonianza la domanda è ma quale testimonianza che testimonianza vogliamo dare che non andiamo in chiesa è una buona testimonianza per me no non so per voi per me la buona testimonianza è che mia madre tutte le domeniche mio padre andavano in chiesa e ad un certo punto o ci sono andato io oppure ci sono andato perché loro mi hanno quasi costretto ad andare in chiesa e sapete cosa è successo tutte le volte che venivano in chiesa testimonianze di figli che non erano convertiti una domenica ho ricevuto Gesù una domenica ho ricevuto Gesù questo è la presa di posizione io mi ricordo mia madre che non erano tanti convertiti nella sua famiglia ma mi ricordo che tante volte ha litigato con i suoi familiari dicendo no la domenica non me la toccate io devo andare in chiesa volete venire a mangiare a casa mia alle due si mangia alle due e mezza se volete è così se volete avere un momento di compagnia come se no venite in chiesa e poi andiamo a casa a preparare da mangiare è importante Anna non si allontanava dal tempio e cosa faceva nel tempio cosa si fa in chiesa Anna cosa faceva serviva Dio in chiesa noi cosa facciamo serviamo il Signore quando spostiamo qualcosa stiamo servendo il Signore nel momento in cui noi serviamo la fratellanza la chiesa stiamo servendo il Signore stiamo servendo il Signore e lo si serve proprio in chiesa venendo in chiesa ci sono dei salmi c'è la parola che parla a questo proposito il salmo 65 verso 4 dice beato chi sceglierai e chi accoglierai perché egli abiti nei tuoi cortili noi ci alzeremo dei beni della tua casa ci sazieremo dei beni della tua casa e delle cose sante che ci sono nel tuo tempio Davide l'uomo secondo il cuore di Dio pregava e poi ricercava tante cose ma una in particolare ad un certo punto nel salmo 27 versetto 4 dice una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco cosa? abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita tutti i giorni della mia vita nel salmo 42 verso 4 ad un certo punto c'è un dolore nostalgico che viene in qualche modo espresso dal salmista quando dice ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la forza verso la casa di Dio tra i canti di gioie di lode di moltitudini in festa ricordi ricordi nostalgici la nostalgia e qui non sta parlando un nostalgico che dice ricordo quando l'ho fatto vent'anni fa trent'anni fa qui è un nostalgico che parla che dice ricordo quando lo facevo e oggi non lo posso fare perché era impedito probabilmente qui si parlava addirittura dell'esilio che c'era stato mentre il popolo di Israele è in esilio a Babilonia quindi oggi erano costretti e si trovavano nella condizione di non poter stare insieme ai fratelli perché la situazione non glielo permetteva ma non era una nostalgia perché ricordo quando lo facevo quante volte magari si vive di ricordi trent'anni fa vent'anni fa venticinque anni fa quarant'anni fa e oggi Anna fino alla bellezza età di 84 anni da quello che dice la scrittura abitava in chiesa residenza via Pisa 200 barra 32 non c'è problema se vogliamo chiamare la residenza qua abitava in chiesa non era nostalgica noi siamo tante volte nostalgici viviamo di ricordi ma fratelli con i ricordi non andiamo da nessuna parte solamente di ricordi non possiamo vivere perché noi oggi siamo chiamati a fare qualcosa e ma qualcuno dice eh ma io devo fare tante altre cose cosa un giorno noi dobbiamo rendere conto di tutto voglio raccontarvi un'illustrazione che ho trovato su internet e che calza proprio a pennello sulla base di quello che sto dicendo un uomo morì prima o poi capita a tutti a un certo punto vide avvicinarsi Dio portando con sé una valigia e Dio disse figlio è ora di andare l'uomo stupito domandò ma di già così presto avevo ancora tanti piani e poi dice quest'uomo a Dio cosa porti nella valigia domandò l'uomo e Dio gli disse tutto ciò che ti appartiene e quell'uomo dice che mi appartiene porti le mie cose i miei vestiti i miei soldi Dio rispose quelle cose non ti sono mai appartenute erano del mondo quell'uomo dice porti i miei ricordi quelli non ti sono mai appartenuti perché facevano parte del tempo porti i miei talenti quelli non ti sono mai appartenuti perché erano delle circostanze allora porti i miei amici porti le mie famiglie mi spiace dice Dio loro non ti sono mai appartenuti perché facevano parte del tuo cammino allora dice porti mia moglie porti i miei figli loro non ti sono mai appartenuti perché loro facciano parte del tuo cuore ma non della valigia o del contenuto della valigia allora dice porti il mio corpo il tuo corpo non ti è mai appartenuto perché il corpo era solo polvere e il polvere ritornerà ad essere allora dice porterai la mia anima no perché l'anima non ti appartiene perché è mia allora l'uomo pieno di paura scaraventò via la valigia che Dio portava con sé e aprendosi in maniera frettolosa vide che la valigia era tutta vuota e con una lacrima che scendeva dagli occhi l'uomo disse non ho mai avuto niente la vita è solo un momento un momento solo tuo per questo mentre hai il tempo sfruttala nella sua totalità servi il Signore che nulla di quello che ti è appartenuto o che pensi che ti appartenesse possa trattenerti vivi per Dio e vivi per il regno dei cieli le cose materiali e tutto il resto per cui tu hai lottato resteranno qui vivi per Dio così la tua valigia non sarà più vuota tante volte noi pensiamo che tutto ci appartiene e ci dobbiamo portare tutto 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 fratelli è forte una cosa forse è forte quello che sto dicendo ma a volte neanche le cose più care che noi abbiamo ci appartengono o che devono prendere il posto di Dio nella nostra vita e Gesù ad un certo punto dice chi vuole seguire deve lasciare chi addirittura padre e madre per seguire il Signore Gesù ora Gesù non era uno contro la famiglia non si contraddice la scrittura alla parola però a volte ci sono delle situazioni che in qualche modo potrebbero diventare un ostacolo nel nostro servizio e nel rapporto che noi abbiamo con Dio perché mettiamo tra Dio tante altre cose che noi riteniamo più importanti anche se non lo diciamo ma di fatto lo dimostriamo a Dio soprattutto perché fratelli qua non dobbiamo dimostrare niente a nessuno a me non dovete dimostrare niente perché poi ad un certo punto passatemi il termine sono problemi nostri è qualcosa di personale in tasca non mi va assolutamente nulla l'unica cosa che io devo fare è quello che sto facendo in questo momento di avvisare il popolo secondo quelli che sono i principi che troviamo nella scrittura secondo quello che dice la Bibbia il Signore ci dice come lo dobbiamo servire non come vogliamo noi ma come dice lui ora non si tratta di andare contro i figli la moglie il marito perché non vogliamo noi mettere contro e la Bibbia non mette contro nessuno ma attenzione di non fare in modo che determinate situazioni anche le persone più care possono diventare a volte un ostacolo nel nostro cammino eh ma signore dovevo eh ma signore dovevo eh ma il Signore lo sa ma certo che il Signore lo sa il Signore sa tutto il Signore sa tutto e non solo vede pure tutto e quindi è importante mettere il Signore al primo posto sopraggiunta e poi dice serviva il Signore di giorno e di notte e come serviva serviva in preghiera e con digiuni serviva con la preghiera quindi cosa vuol dire che non pregava per se stessa dava un servizio pregava per gli altri serviva Dio come attraverso la preghiera e il digiuno quindi pregava e digiunava non per se stessa ma pregava e digiunava per gli altri nella chiesa è importante anche servire il Signore in maniera pratica ma anche attraverso le nostre preghiere una preghiera una chiesa che prega è una chiesa forte l'intercessione non è solo un qualcosa riferito o racchiuso a 4 5 gloria a Dio per il gruppo di intercessione che abbiamo in chiesa gloria a Dio per le riunioni di preghiera del martedì che non è che sono proprio così frequentate è importante pregare da soli ma è importante pregare pure in chiesa perché noi quando andiamo in chiesa a pregare per noi e per gli altri stiamo servendo Dio dice la parola dice la scrittura e digiunava pure con digiuno che cos'è il digiuno il digiuno non deve essere qualcosa di obbligatorio ma è qualcosa di volontario qualcosa che deve essere sentito non dobbiamo digiunare perché ci è stato detto che dobbiamo digiunare fa parte della preghiera e del digiuno qualcuno ha descritto il digiuno ha dato una definizione in questo modo il digiuno è l'astinenza volontaria di un cristiano dagli alimenti per fini spirituali oppure l'astinenza volontaria di un cristiano dagli alimenti per il bene di un'intensa attività spirituale o per il bene di qualche scopo speciale spirituale dunque il digiuno è un atto volontario e non deve essere qualcosa di costretto voglio dire che quando noi digiuniamo non è che il signore scende a pietà e dice guarda poverino da un giorno che non mangia dice perché se no questo mi muore deve essere qualcosa di volontario però quando digiuniamo poi noi dobbiamo in qualche maniera svolgere qualcosa di spirituale perché il digiuno deve essere spirituale perché oggi digiunare se no digiunare fino a se stesso non serve a niente e a nessuno ma ci sono determinate situazioni e momenti dove anche Gesù ad un certo punto dice queste situazioni questi demoni questa situazione non si risolve se non con la preghiera eppure col digiuno non le escludiamo ma deve essere qualcosa di sentito quindi Anna digiunava perché sentiva il bisogno di digiunare per dedicarsi a delle attività intense spirituali e quindi al punto tale che era anche disposta ad astenersi di qualcosa di fondamentale di importante l'alimento per il suo corpo per dedicarsi solamente alla preghiera ma non per fare in modo che il Signore possa sciogliersi nei nostri confronti non è che il Signore dice povero è qualcosa che rientra comunque nella fede e sopraggiunta in quella stessa ora mi piace quando arriva Anna tante volte pensiamo che le cose succedono per caso ma per caso non succede niente proprio in quel momento che portano Gesù nel Tempio in quella stessa ora e in quello stesso momento scrive Luca sopraggiunge Anna nella stessa ora e quindi in quel momento Anna può godere della presenza di Gesù e che cosa faceva lodava il Signore sopraggiunta in quella e anche lei lodava Dio e anche lei c'era anche Anna e anche lei lodava il Signore quindi vuol dire che lei si era unita ad altri che in quel momento stavano lodando Dio alleluia quindi non si era esclusa non si era messa da parte per dire fammi vedere che cosa stanno facendo ma come lodano bene ma che bella chiesa ma che bella lode che c'è in questa chiesa no lei si era inserita e anche lei lodava Dio alleluia era sempre nel Tempio e lei lodava Dio noi tutti siamo chiamati a lodare Dio insieme quando arrivi in chiesa e trovi la chiesa che lode inserisciti perché la lode è un'espressione di ringraziamento è un'espressione di riconoscenza noi entriamo nei suoi cortili con lodi e con ringraziamento ed è bello esprimere lode è bello lodare il Signore la lode prepara dopo la lode la predicazione prima c'è stato un bel momento questo canto ad un certo punto dovevo fare gli annunci ho detto ma che se ne importa degli annunci si era creata l'atmosfera tale da poter subito passare alla predicazione della parola perché crea l'atmosfera è bello perché quando noi lodiamo il Signore mettiamo le basi andiamo a creare le giuste condizioni per fare in modo che il Signore ci benedica Dio ci benedice fratelli impariamo a lodare il Signore nell'assemblea insieme noi dobbiamo lodare il Signore lodare il Signore e lo ricordo è il movimento delle nostre labbra è il frutto delle nostre labbra noi dobbiamo lodare il Signore dobbiamo celebrare il Signore insieme alleluia e lodava anche lei Dio vuol dire che c'erano altri che già stavano lodando e lei si era unita alleluia e il salmista diceva ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa gloria a Dio tra i canti di lode e di gioia di una moltitudine in festa quando noi lodiamo il Signore facciamo festa siamo una moltitudine che facciamo festa noi ci rallegriamo nel Signore c'è grande festa quando il popolo di Dio l'ha del Signore sono momenti speciali alleluia insieme a una moltitudine in festa quali sono le nostre feste qual è la nostra festa quando noi lodiamo insieme quando stiamo il Signore lodiamo il Signore insieme noi stiamo festeggiando per me è festa oggi vedete che vengo con la cravatta vengo vestito bene perché è festa e mi presento non solo esteriormente ma anche con un cuore festoso e pieno di gioia alleluia sorgente di vita è festosa siamo sempre festosa noi qua facciamo sempre festa alleluia noi a sorgente di vista facciamo sempre festa è sempre festa tutti i giorni è Natale tutti i giorni è Pasqua perché Gesù vive nel nostro cuore nella nostra vita e io mi rallego e faccio festa nel Signore alleluia gloria a Gesù cantavamo quel canto che diceva fratelli facciamo festa fratelli facciamo festa nel Signore il mondo non conosce la festa che noi facciamo e poi cosa dice gloria alleluia a Gesù dice così più o meno fratelli facciamo festa come lodando il Signore con un viso pieno di gioia lasciamo i problemi fuori non ci appartengono libera la tua mente sciogliti e togli sti pesi che porti nel cuore fai festa rallegrati rallegratevi nel Signore diceva l'Apostolo Paolo nella sua epistola di gioia rallegratevi sempre nel Signore alleluia noi ci rallegriamo sempre nel Signore Anna lo dava a Dio posso immaginare questa donnina di 84 anni immaginiamo una donnina che comincia a danzare e a festeggiare sorella Maria Luisa qua proprio che gloria a Dio per la sorella Maria Luisa gloria a Gesù alleluia non si allontanava mai dal Tempio alleluia e quando si allontana soffre la sorella Maria Luisa e non solo lei tante altre sorelle qua alleluia era festosa noi siamo festosi e a volte magari qualcuno ci prende in giro e ma voi non è emotività fratelli non vogliamo muoverci dettati o spinti dall'emotività ma spinti da quello che c'è dentro nel nostro cuore dallo spirito santo dallo spirito di gioia la gioia del Signore è la nostra forza e quindi questa gioia deve essere manifestata e parlava del bambino di chi parlava di che cosa parlava di che cosa dobbiamo parlare qua cosa parliamo dei problemi dei nostri problemi che ti è capitato di quei di là e quindi ci piangiamo addosso ci raccontiamo le nostre peripezie ci raccontiamo i nostri problemi e Anna era lì e non è che gli raccontava sai 30 anni fa ho perso il marito sai 30 anni fa non so quanti anni erano passati comunque sai mi è capitato mi è capitato quello parlava di Gesù testimoniava di Gesù Anna testimoniava di Gesù noi siamo e dobbiamo essere veri testimoni efficaci e dobbiamo testimoniare e parlare di Gesù all'interno della chiesa e fuori della chiesa il nostro parlare deve essere un parlare cristo centrico Gesù deve essere al centro della nostra vita al centro delle nostre conversazioni al centro del nostro parlare quindi quando noi parliamo di Gesù non sbagliamo mai parla di Gesù non sbagli mai quando parliamo degli altri sbagliamo sempre Gesù quando parliamo di lui non si offende non si offende anche perché di Gesù non possiamo parlare male non perché si chiama Gesù ed è Gesù perché non abbiamo e non troviamo niente da dire di male di Gesù e quindi non ci possiamo permettere di parlare male di Gesù anche se qualcuno ogni tanto tenta eh ma Gesù ma Gesù che cosa e Gesù rimane Gesù e noi dobbiamo testimoniare da Gesù di Gesù lì avevano ricevuto e stavano aspettando la consolazione di Israele che sarebbe arrivata grazie al Messia e Simone ad un certo punto dice ora posso morire questo era il suo desiderio questo lui si aspettava una volta che aveva visto Gesù e tra l'altro l'aveva preso pure in braccio dice ora posso pure andarmene chiamami sono stato soddisfatto quello di avere visto Gesù e insieme con lui c'era pure Anna e anche Anna continua a parlare di questo bambino continua a parlare di Gesù parliamo di Gesù raccontiamo agli altri quello che Gesù ha fatto per noi raccontiamocelo pure nella chiesa perché noi quando ci raccontiamo e raccontiamo le esperienze che facciamo tutti i giorni con Gesù fortifichiamo la nostra fede ci focalizziamo in Gesù nella persona di Gesù e quindi anche quando siamo scoraggiati noi ci incoraggiamo lo scoraggiamento quello arriva a tutti quanti prima o poi sapete quando io mi incoraggio nel ricordare non solo nel parlare e raccontare le opere che Gesù ha fatto per me nel passato di fatti il salmista dice racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te Dio ha compiuto grandi cose per me e per te nella nostra vita e noi lo dobbiamo raccontare va Gesù dopo aver guarito e guariva diceva va e racconta quello che hai visto noi dobbiamo raccontare quello che abbiamo visto ma dobbiamo pure raccontare quello che abbiamo vissuto il fatto che noi siamo qua è perché noi abbiamo vissuto e ricevuto un grande miracolo alleluia Dio è il Dio dei miracoli e ancora oggi opera nel nostro mezzo e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme a tutti quelli che aspettavano Maria comincia a parlare e dice è arrivata la redenzione è arrivata la giustificazione è arrivato il Messia è arrivato Gesù e anche noi oggi vogliamo confermare e affermare che è arrivato Gesù noi possiamo raccontare che dal momento in cui è arrivato Gesù nella nostra vita tutto è cambiato e ancora oggi dal momento in cui arriva Gesù e interviene nella nostra vita tutto cambia tutto cambia le cose non sono più come quelle di prima perché Gesù porta benedizione e trasformazione mi è piaciuta l'affermazione del pastore Chiocca quando alcuni immaginavo alcuni che quando dicono ah io facevo questo 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 e quest'altro poi è arrivato Gesù come dire è arrivato Gesù poi invece è arrivato Gesù e nella mia vita è cambiato tutto alleluia gloria a Gesù non è mai troppo tardi caro fratello e cara sorella non è mai troppo tardi per accettare Gesù per conoscere Gesù qualcuno potrebbe dire oramai la mia età è avanzata quello che dovevo fare l'ho fatto e quindi perché Gesù sto bene come sto no sei ancora in tempo e nel tempo giusto per conoscere Gesù nella tua vita come il tuo personale salvatore e come il tuo Signore e il consiglio che ti voglio dare per vita vissuta ma non solo io ma tanti che siamo qui prova per credere devi provare devi mettere Dio alla prova e vedrai che probabilmente ad un certo punto dirai perché non l'ho conosciuto prima l'avessi conosciuto prima l'avessi conosciuto prima però i giorni che è ancora avanti li potrai vivere con Gesù dalla tua parte con Gesù dentro di te non è troppo tardi servire il Signore fratelli non mi stancherò mai né io e nessuno e neanche la parola di consigliare dare il consiglio di servire il Signore abbiamo qui un esempio mi ha toccato il cuore fratelli per quello che ho voluto condividerlo Anna non si allontanava mai dal Tempio serviva Dio notte e giorno non pensare che il tempo è finito forse magari non potrai fare più determinate cose ma ne potrai fare altre ma comunque tutte tese a servire il Signore quindi servi il Signore metti la mano all'aratro o rimetti la mano all'aratro perché il Signore in questa mattina ancora ti sta ricordando e vuole qualcosa proprio da te tu hai un talento io ho un talento tutti abbiamo talenti ma il Signore vuole che noi mettiamo a disposizione i nostri talenti per l'edificazione comune nel momento in cui noi ci tiriamo indietro e non esercitiamo sfruttiamo i nostri talenti ci stiamo privando ma stiamo pure privando la Chiesa di grandi benedizioni ci sono fratelli qua io lo so che sono una grande benedizione e potranno essere di grande benedizione per la Chiesa gloria a Dio per tutti i talenti eccellenti che abbiamo nella Chiesa ma vi posso garantire che ce ne sono ancora tanti ce ne sono ancora tanti e io non voglio soffiocare nessun talento ma voglio incoraggiare che nella forma giusta con l'attitudine giusta possiamo mettere a disposizione il nostro talento il nostro cuore il tuo cuore il tuo talento devi metterlo a disposizione per la Chiesa o della Chiesa perché ancora insorgente di vita il meglio deve venire vuoi essere protagonista o spettatore io voglio essere protagonista e dietro a me vorrei che ci foste tutti quanti voi tutti nessun escluso tutti nessun escluso non ti fa retirare dai vai vai quando Isaia ad un certo punto si è reso conto del suo stato ad un certo punto poi nel momento in cui si rende conto davanti alla visione che aveva avuto davanti alla visione di Dio ad un certo punto dice ahimè non sono degno però poi ad un certo punto una volta che era stato purificato con quei carboni con quel carbone acceso che era passato dalle sue labbra dopo lì c'è stata una chiamata lì era intervenuto ed è entrato in una vera devozione e consagrazione perché la devozione e la consagrazione deve essere pure seguita ci deve essere un seguito e alla prima chiamata quando Dio dice chi manderò io Isaia cosa risponde manda me non manda guarda quanti ce ne sono proprio io manda me se oggi il Signore dovesse chiamare fare una chiamata che ci sono tante cose da fare chi risponderebbe quanti risponderebbero alla chiamata del Signore oggi c'è una chiamata non un appello qua ma il Signore sta chiamando la Chiesa sta chiamando la Chiesa a una vera devozione a una vera consagrazione Luca mette l'accento su che cosa sulla persona di Anna perché era anziana che era sempre in Chiesa no devozione e consagrazione si evince di questa donna due aspetti si evincono due aspetti molto importanti devozione di quella donna e consagrazione e chiaramente santificazione non aveva peccato e ha cercato e ha cercato di rimanere integra davanti alla presenza del Signore il Signore ci chiama a una vera consagrazione a una vera devozione essere devoti per il Signore fratelli tutti siamo chiamati purtroppo non tutti rispondono ma oggi c'è una nuova chiamata che il Signore sta rivolgendo a tutti quanti noi una chiamata fresca una chiamata fresca non dire che non ti interessa che non è per te è per tutti noi è per tutti Dio vuole che noi oggi lo serviamo e lo serviamo con tutte le nostre forze oggi è tempo di servire il Signore concludo con l'affermazione di Giosuè quando disse al popolo alla fine dando il consiglio vi consiglio di servire il Signore per quanto dipende da me e la mia famiglia e la casa mia abbiamo deciso di servire il Signore è una questione di decisione è una questione solo di decisione tu devi decidere e di scelta ieri sera Sara Taccardi ha parlato di scelte e decisioni che lui lei si è trovata a dover prendere nel corso della tua vita anche tu perché c'è anche un altro detto popolare concludo veramente volere e potere volere e potere quando noi vogliamo fare qualcosa la facciamo quindi se vi pare diceva Giosuè una cosa buona servite il Signore per quanto mi riguarda scegliete oggi a chi volete servire a chi vogliamo servire oggi e come lo vogliamo servire non è mai troppo tardi e oggi abbiamo pure la possibilità di recuperare il tempo che abbiamo perso quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi possiamo cominciare a farlo amen e lo possiamo fare oggi con forza alziamoci in piedi alleluia gloria a Gesù non è mai troppo tardi servire il Signore non è mai troppo tardi ricevere Gesù nella propria vita alleluia benediciamo il Signore alleluia gloria a Gesù non è mai troppo tardi non pensare che è troppo tardi per l'età o per tanti altri motivi oggi ancora oggi tu puoi fare quello che fino a oggi non hai fatto puoi ricevere Gesù nella tua vita mentre tesi può con la tastiera creare una base musicale vorrei che tutti potessimo chinare il nostro capo e ci rivolgiamo tutti al Signore e solo con la musica che suona vorrei lasciare solamente un minuto un minuto per riflettere su tutto quello che abbiamo ascoltato rifletti su quello che oggi è stato detto da questo pulpito e non lo prendere come qualcosa che ha detto il Pastore ma prendilo come una parola che è arrivata direttamente da Dio rifletti Dio ha parlato per mezzo del profeta Geo al popolo di Israele dicendo riflettete sulla vostra condotta riflettete 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 solo con la tastiera alleluia alleluia gloria a Dio non è mai troppo tardi oggi oggi Dio è il Dio dell'oggi è lo stesso ieri e oggi in eterno ma oggi oggi in questo momento alleluia alleluia gloria gloria a Gesù non è mai troppo tardi non pensare che è troppo tardi per te accettare Gesù e fare un passo davanti o verso Gesù in questo giorno oggi il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore a te che hai 15 anni 20 anni 40 anni 60 70 80 Gesù oggi sta bussando proprio alla porta del cuore tuo e non ti dice non è troppo tardi per me entrare nella tua vita alleluia e mentre siamo tutti con gli occhi chiusi per piacere intercedendo evitando possibilmente disturbi in sala io rivolgo e mi rivolgo a quanti forse sono qui per la prima volta magari sono stati mezzo a noi anche altre volte ma non hanno preso una decisione finale verso Dio non è mai troppo tardi oggi se tu vuoi conoscere Gesù in una forma più intima attraverso una relazione personale con Lui io ti invito ad alzare la tua mano lì dove ti trovi alza la tua mano oggi non è mai troppo tardi oggi alza la tua mano lì dove ti trovi e noi pregheremo insieme alleluia alleluia Signore tocca in questo momento alleluia alleluia gloria a Gesù c'è qualcuno che vuole fare un'esperienza con Gesù personalmente c'è qualche mano alzata forse io da qui non la vedo alza un pochino di più così io la possa vedere alleluia alleluia gloria a Gesù Signore allontana ogni timidezza ogni paura nel nome di Gesù infondi coraggio in quelle braccia che stanno combattendo in questo momento alza la tua mano non è mai troppo tardi neanche per te alleluia gloria a Gesù alleluia possiamo cantare un canto sono imperfetto sono mancante davanti a te mio Gesù così perfetto così giusto sei tu mio Gesù così giusto tu mi hai amata adora tu mi me così giusto tu mi hai scelta ed ora io mi toglierti serviti di me e prendi la mia vita per mostrare che sei tu che dai speranza che mi hai che mi hai scelta di me scelta così giusto così giusto sei tu tu mio Gesù che ti prego ti prego padre serviti di me serviti e prendi la mia vita per mostrare perché sei tu che sei tu che dai speranza e non ladrigerò ti prego padre serviti di me alleluia 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 serviti di noi signore e la tua gloria manifesterò abbassa il nome mio e innalza il tuo usami uno strumento utile sarò e la tua gloria manifesterò alleluia alleluia abbassa il nome mio e alza il tuo alleluia 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 usami uno strumento utile Infessarò, con la tua gloria manifesterò, abbasso il nome mio e lanza il tuo. Adesso è tuo, serviti in me e prendi la mia vita per mostrare che sei tu che dai speranza e ora griderò, ti prego pari serviti in me. Alleluia, gloria a Gesù. Questa è la nostra preghiera, Signore, serviti di noi. Alleluia. E ancora in questa mattina vogliamo dire alla conclusione, manda noi, manda noi. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, gloria a Gesù. Vorrei concludere questo incontro chiedendo alla sorella Manuela di venire avanti e rivolgere una preghiera di intercessione in accordo alla parola per tutti quanti noi. Alleluia. Alleluia, Signore vogliamo ringraziarti in questa mattina perché la tua parola ha fatto del bene le nostre vite, Signore. Ancora una volta tu hai toccato il profondo dei nostri cuori, Signore. E in questo giorno, Padre, in accordo la tua parola, in accordo anche a quanto abbiamo cantato, pregato, vogliamo concludere insieme dicendo, Signore, usati di noi, Signore. Prendi le nostre vite, Signore. Fai di noi, Signore, di ciascuno di noi uno strumento utile, Signore, per il tuo regno, per la tua opera, Signore. Perché non c'è niente al mondo che valga più che servire il nostro Dio, il nostro Re, Signore. E noi desideriamo che le nostre vite siano spese per te, per la tua causa, Signore. E desideriamo, Signore, che il nostro cammino su questa terra possa lasciare un segno, Signore. Tutto questo per te perché tu meriti, Signore, al di là, Signore, di quello che noi possiamo esprimere con le nostre parole. Perché tu sei Dio, sei grande, sei potente, sei l'Eterno, Signore. Signore, in questo giorno vogliamo dirti che ti amiamo, ti ringraziamo. E grazie ancora per come hai cibato e trasformato le nostre vite in questo giorno, Padre. Grazie nel nome di Cristo Gesù, il nostro Signore. Amen. 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 Gloria a Gesù. Amen. Gloria a Dio. E prima di concludere con un canto, voglio ricordare e comunicare innanzitutto che l'offerta, la raccolta dell'offerta straordinaria, monta a 354 euro e 11 centesimi. Che martedì c'è la riunione di preghiera. Giovedì lo studio sia nelle zone ma anche in chiesa è sospeso. Perché ci vediamo sabato per tutti gli iscritti alla scuola biblica. Avremo il pastore Altamira, questa la presente anche domenica da noi, tratterà l'argomento sulla figura di Giobbe. Ho ricevuto la dispensa ieri sera, ho dato un'occhiata ed è bellissima, è incoraggiante la figura di Giobbe. Per coloro che stanno vivendo momenti di prova e di difficoltà, Giobbe è una figura che ci incoraggia. Quindi anche se non siete iscritti, vi incoraggio se volete a partecipare e poi domenica mattina anche nel nostro punto. Amen. Alleluia. Concludiamo con un canto. Il tuo tempo non è il mio, con pazienza aspetterò la risposta tua, oh Dio. Ho bisogno di più di te, la tua volontà farò, solo a te mi affiderò, oh Dio. Alzo gli occhi a te, la mia salvezza, alzo gli occhi a te, la mia salvezza. Tu sei con me, tu sei con me, nella gioia, nel dolore, sono certo che... Tu sei con me, tu sei con me, nella voce, nella prova, sono certo che... Tu sei con me. Nel tuo tempo non è il mio, con pazienza aspetterò la risposta tua, oh Dio. Ho bisogno di più di te, la tua volontà farò, solo a te mi affiderò. Alzo gli occhi a te, la mia salvezza, alzo gli occhi a te, la mia salvezza. Tu sei con me, tu sei con me, nella gioia, nel dolore, sono certo che... Tu sei con me, tu sei con me, nella voce, nella prova, sono certo che... Tu sei con me, nella voce, 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 Tu sei con me, tu sei con me, nella storia, nel dolore, sono certo che Tu sei con me, tu sei con me, nella pace, nella prova, sono certo che Tu sei con me, tu sei con me Amen, il Signore è sempre con noi e rimarrà sempre con noi Amen, la grazia del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio, lo Spirito Santo e la comunione con Lui rimangono tutti i giorni della nostra vita, da ora e per sempre, Amen Dio ci benedica C'è il banco alimentare straordinario per chi non l'ha ancora ritirato C'è il banco alimentare straordinario per chi non l'ha ancora ritirato